Situazione meteo sotto controllo in buona parte del territorio orvietano. In questa prima parte della giornata di giovedì 6 novembre, la situazione meteorologica non fa registrare situazioni critiche. Il fiume Paglia, tenuto sotto controllo dalla protezione civile, ha aumentato la portata rispetto ai giorni scorsi, ma il livello dell'acqua resta abbondantemente al di sotto del limite di guardia. Secondo il bollettino diramato dalla protezione civile di Orvieto, nella giornata odierna, quella del 6 novembre, la parte più intensa del fronte freddo inizierà a transitare sull'Umbria, con precipitazioni di asparsi addiffuse che potranno assumere carattere di forte rovescio o temporale, anche organizzato, tra la tarda mattinata e la serata. Progressiva attenuazione dei fenomeni nella mattinata di domani, venerdì 7 novembre. In previsione dell'eventuale aumento dei fenomeni meteo, è stato dunque disposto il monitoraggio delle zone a rischio allagamento e, soprattutto, dei corsi d'acqua di tutto il comprensorio. Il sindaco di Orvieto, Giuseppe Germani, ha disposto l'apertura del centro operativo comunale presso la sede della protezione civile di Orvieto alla Caserma Piave. Per informazione, il servizio di protezione civile risponde ai numeri 0763 30 64 10, 0763 30 64 18, 0763 30 64 19 oppure al numero di cellulare 329 29 86 585. Le stesse disposizioni sono state attuate a Castelbiscardo, dove il sindaco Daniele Longaroni ha disposto l'apertura del centro operativo comunale, invitando la popolazione a non recarsi nelle zone a rischio e sondazione e a percorrere le strade in prossimità del fiume Paglia già segnalate con epposite d'avvento. I numeri di riferimento della protezione civile in questo caso sono 0763 36 10 10 oppure i numeri di telefonia fissa 328 79 04 676 320 74 05 049 338 91 29 047. Grazie a tutti.